Era una persona che sapeva andare al di là dell'appartenenza, lui era veramente l'essenza dell'amministratore, sempre disponibile con tutti, sempre sorridente e sempre pronto a parlare e a risolvere i problemi che le comunità locali avevano, in particolare noi della montagna. Avevamo in lui una persona, un punto di riferimento importante, oltre che un amico. Parallelamente alla provincia penso che Giacomo lascerà un grande vuoto e noi un punto di riferimento molto importante che non avremo più in futuro.